il papà di rocco bianco fiore sono io papà di rocco bianco fiore che fece ma fece io sono il presidente del liceo e da mese che sto ragazzo non viene a scuola ciao perché continua a guardarci la finestra non sa che dovresti venire a scuola domani pozzini rasco ma c'è qualche rom che lavora ci sono tanti rom che che grattano questa musica questa scuola